Allora, ciao a tutti! Allora, scusate, non mi piace rifare in scena prima di iniziare il concerto e di spegnere le luci che mi prende un po' in mano, questa cosa qui mi metto un po' in danza, però stasera ho dovuto farlo, ho dovuto farlo perché intanto faccia a faccia volevo ringraziarvi tutti per la grande soddisfazione che ci vediamo. E poi per assicurare tanti di voi, perché in questi giorni mi hanno scritto tanti ragazzi, tanti ragazzi, l'altro ieri, stamattina, esternandomi la paura di partecipare al concerto. Siamo circa 7.000 stasera, domani sera saremo 5.000. Siamo qui, siamo tanti e non abbiamo paura. Io non ho paura. La vera di esternare i nostri sentimenti è più forte della paura. E soprattutto perché questo spazio qui ce ne siamo sudati con tanta sonnita. E io personalmente preferirei morire piuttosto che non c'erci. E poi sento fortemente, sento fortemente che l'amore che io provo verso di voi e che voi provate verso di noi è più forte della paura. Io non è più forte della paura. E' stato istituito alle 21 di questa sera, alle 21 di questa sera, circa, è stato istituito un minuto di silenzio in tutta Europa, per ogni evento. Un minuto di silenzio per omaggiare e per ricordare le vittime di Manchester e di tutti gli altri attentati, di tutti gli attentati che si sono suspeviti in questi mesi. E dopo questo minuto ci sarà un grande provato. Questa cosa succederà in tutta Europa. Un minuto di silenzio. Quindi adesso stiamo vicini tra noi per un minuto. E fra un minuto, quando scadrà il tempo, io alzerò il pugno e noi faremo sentire il grido di Roma a questi pezzi di merda. Un minuto di silenzio. Questa cosa succederà è Grazie. Grazie. Grazie.